Beh allora, tanto complimenti perché qua a Verona è un premio importante questo. Sì, grazie, è un premio importante anche perché parlavamo prima di un portafortuna quando insomma hanno iniziato a fare queste premiazioni il Verona è andato sempre migliorando e poi fa piacere perché si ricorda comunque un personaggio storico importante del Verona e dei valori bellissimi per il calcio e per lo sport in generale. Valori come lealtà e correttezza che tu hai dimostrato nella gestione di una stagione particolare. Che stagione è stata per te? Beh sicuramente molto positiva perché quando fai titolare per 4-5 mesi a Verona in Serie A raggiungendo una salvezza con largo anticipo e tutto sommato sentendosi anche protagonista è sicuramente positiva e per questo sono molto contento della stagione. Ripeto, è stato bello comunque anche lavorare con Rafa, con Collini avevamo un bel gruppo di portieri anche con il nostro mister dei portieri, Hermes, Morini quindi ci siamo stati veramente bene abbiamo vissuto la quotidianità nei migliori di modi e soprattutto ci siamo fatti trovare pronti tutti. E la prossima stagione come te le immagini? Ancora con la maglia giallo-blu e poi come sarà? Beh sicuramente a me piacerebbe molto rimanere qua. La società sta facendo le sue valutazioni e aspettiamo con grande tranquillità anche perché insomma questo era il mio quindicesimo anno da professionista e quindi so che quando c'è il mercato di mezzo ci sono tante situazioni da gestire quindi io che tra virgolette sono un po' più vecchietto so che devo aspettare. Ecco, visto che ne hai viste tante in 15 anni insomma ci sono iniziati i colloqui con Mandorlini, Trassetti e Mandorlini per il rinnovo tu che sensazione hai? Ma la sensazione mia è un po' quella di tutti è che speriamo che il mister possa dare continuità al suo lavoro perché insomma è visto bene un po' da tutti quindi non solo dai nostri tifosi in società ma anche con i giocatori si è creato un feeling particolare non solo perché i risultati sono stati sempre positivi perché anche il mister ci ha permesso di lavorare, di crescere di maturare un po' tutti negli anni. Tutti insieme l'anno prossimo? Te, Rafa e Gollini? Ma forse siamo un po' troppi quindi ripeto, la società farà le sue scelte e vedremo con grande tranquillità. Francesco, un personaggio molto importante, già salutato mi riferisco al direttore sportivo Son Sciogliano tu come tutto lo spogliatoio del Verona come avete appreso questa notizia e come la giudichi? Ma la notizia penso che, almeno parlo per me l'abbiamo appresa quando lui ha fatto quella conferenza siamo stati un po' stupiti tutti perché ci sentiamo un po', ripeto, una famiglia quindi col mister, col direttore, un po' con la società e quando ci sono questi cambiamenti un po' di destabilizzazione è normale che ci sia ma il direttore è una persona assolutamente capace e potrà avere soddisfazioni anche da altre parti. I tifosi gialloblù possono stare tranquilli perché insomma il portiere del futuro ce l'abbiamo già Pierluigi ha già dimostrato di essere veramente molto molto bravo. Sì, 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 tra l'altro è io da settembre che parlo bene di lui quindi fa piacere continuare a farlo è ovvio che lui adesso è un bivio della sua carriera perché a vent'anni deve iniziare a giocare magari se non è qui a Verona sarà sicuramente da un'altra parte però penso che il Verona possa stare tranquillo perché se vuole puntare su un giovane portiere ce l'ha in casa. Ecco, io ipotizzo ovviamente insomma lo sai meglio di me che durante il mercato si può dire tutto il contrario di tutto secondo me Gollini andrà a giocare in prestito perché deve giocare a Fidali la porta della Serie A mi sa che la società del Verona non se la sente rimarrete tu che rinnoverai rimarrà Raffael tornerà Nicolas che andrà nuovamente in prestito e dopo arriverà un giovane portiere che magari farete crescere ulteriormente si fa già il nome di Leali che a retrocesso il procuratore Battistini ve l'ha anche confermato che lo proporrà il Verona di conseguenza potrebbe essere questo il trittico di portieri del Verona 2015-2016 Ma hai una bella fantasia non so se tutto ciò che hai detto si possa realizzare perché ripeto per me i portieri in una squadra sono due poi c'è il terzo che deve sapere il ruolo che ha e non è il mio caso A proposito di due portieri sei stato molto utile anche a Raffael quando sei sceso in campo tu hai fatto una grande prestazione Raffael si è tornato a giocare come abbiamo detto durante la stagione titolare e anche lui ha fatto bene sei stato molto utile anche da quel punto di vista lì Sì, io ho sempre sostenuto che la concorrenza sia molto importante nel nostro ruolo è vero che il portiere quasi sempre è uno solo però in certi casi come è successo quest'anno la concorrenza ha fatto bene a Raffael quando è rientrato sicuramente aveva qualcosa in più ma ha fatto bene anche a me perché ho cercato di tenermi stretto il posto il più possibile Le presenze sono 90 in Serie A visto che si parla di Mister 100 che è Mandolini per i punti fatti in due anni per arrivare a 100? Bisogna lavorare ancora stare sul pezzo ho 33 anni voglio giocare il più possibile quindi è un bel obiettivo ho già solo questo anche se poi ne ho fatti tanti in B ho giocato anche in Serie C quindi ripeto in tutta la mia carriera ne ho viste tante ma voglio vederne ancora Il più bello che ti lega a Verona è legata a una partita quindi? Ma non saprei perché quando ho giocato le partite decisive non le abbiamo mai sbagliate quindi direi tutti gli scontri diretti in fase salvezza che abbiamo vinto alla fine sono stati sono tutti bei ricordi per me perché parti da Udine l'Atalanta il Cagliari stesso poi con il Napoli in casa sono tutti momenti della stagione delicati determinanti e mi ha fatto piacere essere protagonista anche in quelle partite vittoriose Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti